Ogni anno, dico sempre, questo è l'ultimo perché è faticosissimo metterlo in piedi, poi invece quest'anno siamo già in pista con l'edizione che non sappiamo qual è perché abbiamo perso il conto, noi non siamo così bravi a fare i conti. Ciao, io sono Nicola. E io sono Martina e questo è il podcast del cinquantesimo raduno delle bande musicali valdostane. Il raduno si trerà in Sime dal primo all'8 giugno 2024. Questa sera siamo a Nuss, in compagnia della banda musicale La Liretta di Nuss e siamo con il presidente Diego Vittaz e con il maestro Livio Barsotti. Partiamo con una domanda per il presidente. Noi ci chiamiamo Musica Pelle La Lira, voi vi chiamate La Liretta anche se in realtà siete ben più numerosi di noi. Qual è l'origine di questo nome? Ma l'origine era perché era una banda vicino ad Aosta e quindi si è voluto copiare un po' il nome, però più piccolina rispetto ad Aosta e quindi è diventata La Liretta. E com'è nata la banda? È nata da un gruppo di appassionati musicisti che si sono ritrovati così per inaugurare all'inizio la ferrovia che passava proprio qua a Nuss, poi si era fermata un po' nella guerra, poi nel dopoguerra ripartita, ma poi dagli anni 90 con Livio Barsotti che si è preso in carico di trascinare i giovani, quindi creare una scuola di musica un po' più forte e si è riuscito quindi ad avere dei numeri un po' più grossi, ecco, diciamo così. E quindi Livio hai trascinato la banda negli anni 90, ma poi non ti sei fermato. La banda di Nuss oggi è famosa anche perché organizza il festival nel mese di luglio. Raccontaci come è nata l'idea, come avete fatto in questi anni a far arrivare a Nuss tanti personaggi importanti. Bene, la cosa è nata nel 1986 col Festival degli Ottoni, perché il nostro maestro di Fiesole, Vinco Globo, che ci ha spinti un po' a fare quello che si faceva già in America. Dall'86 non ci siamo più fermati e credo vent'anni fa il Festival degli Ottoni è diventato il News Festival, con l'intento di far avvicinare dei maestri, diciamo di calibro, tipo mio fratello Mario Barsotti, tanto per dirne uno, ai giovani della banda. Da lì poi è nata anche l'idea di fare il corso di direzione, quindi ogni anno dico sempre che questo è l'ultimo perché è faticosissimo a metterlo in piedi, però anche quest'anno ci saranno nomi internazionali. quindi, beh, quest'anno abbiamo Andrea Tofanelli, che è una tromba che negli ottoni è quello che suonava con Maurizio Costanzo Show, con il famoso trombettista Demo Morsetti, nella Big Band di Demo Morsetti, e lui è famosissimo per i suoi suoni bis 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 acuti, come l'Ottavino. Diego, voi siete reduci dal Raduno, siete stati gli organizzatori del Raduno 2023, ci siamo insomma passati l'organizzazione di questo importante evento per le bande musicali Valdostane, un consiglio che puoi darci? Un consiglio è una bella domanda, perché è riuscire a pensare a tutto quello che c'è da fare, perché poi alla fine è difficile riuscire a organizzare proprio la giornata finale, incastrare proprio tutto, però se si riesce a fare quello poi funziona bene tutto, nel senso che poi è il giorno clou, alla fine è l'ultimo giorno, dove ci sono tutte le bande, all'inizio ci sono le varie serate, quindi più o meno poi si ripetono tutta la settimana, però la giornata finale è quella che arrivano tutte le persone e riuscire a incastrare tutto, pensare a tutti gli orari, parcheggi dove far andare le persone, in tutti i villaggi, quello è... quindi l'organizzazione dell'ultimo giorno è stato veramente impegnativo e quindi il consiglio è veramente focalizzarsi sull'organizzazione dell'ultimo giorno, che secondo me poi dopo è quello che poi rimane anche a tutti i musicisti, perché il concerto si è anche quello fa, però poi l'ultimo giorno tutti insieme, se si riesce ad organizzare bene, anche la gente è contenta e non fa aspettare le persone, non si annoiano e si riesce a fare meglio tutta la giornata, ecco. Maestro, ci dai un'anteprima di alcuni brani che sentiremo durante il vostro concerto, venerdì 7 giugno ai Sime? Beh, diciamo che è un brano che voi lo conosciete molto bene, che l'avete eseguito al concorso di Valencia, un brano che è da un po' di anni che volevo fare e voi sapete bene che il brano ha tante percussioni, quindi poi alla fine abbiamo avuto anche dei problemi con la nostra storia, è un brano bellissimo fra l'altro, altro pos, o altro pos, non sono ma non si dica, poi faremo il brano che quest'anno in prima categoria ha concorso di Riva del Garda di Feliciani, che parla di un incendio molto colorato, quindi è un brano anche lì dove le percussioni hanno la parte più impegnativa e infine è un brano che abbiamo fatto tantissimi anni fa, che però era un po' che me lo chiedevano anche loro in uendoli, lei qui, in trascrizione di Marco Somodossi. Siamo arrivati però alla fatidica domanda, che cos'è il raduno per voi? Festa, impegno, amicizia. VINTA EMOZIONI E AMICIZIA